C'era tanto supporto intorno, nel senso che la percezione era quella di essere, mi si chiedeva tanto, mi si è chiesto veramente tanto, però allo stesso tempo se da un lato ci si chiedeva il 100%, il 120%, il 130%, gli insegnanti ce lo davano e poi il supporto emotivo l'hanno reso molto meno pesante. L'unici che riescono a comprendere quello che stai provando sono i propri compagni di corso. Avere un contatto con qualcuno che sta passando quello che stai passando tu e sa quanto sia difficile, ma allo stesso tempo sa quant'è la motivazione che ci sta dietro e quindi è come se sapesse toccare le corde giuste. Sono stati fantastici, incontrare le teste è stata una grandissima emozione, abbiamo fatto pure delle cene qui a Roma, si instaurava questo rapporto di famiglia, quindi ci si conosce ed è bellissimo. Io non pensavo di farcela, il connubio scuola Cordua è stato incredibile. Qui c'è stata quindi una grandissima crescita personale da questo punto di vista, quindi più accademico, perché mi sono proprio accorta che a me piace sapere le cose, comprendere i meccanismi piuttosto che far vedere agli altri che lei ha compresi. Io ho scoperto di poter fare cose che non pensavo di poter fare, di poter leggere ritmi, pressioni.